gentili spettatori di rapallo 2 benvenuti in questo nuovo appuntamento di cronaca oggi notizia del giorno è un servizio di telenord che volevo andare a commentare ci tengo particolarmente a farlo perché questo questa rapina ed estorsione attenzione estorsione è avvenuta a chiavari e io sono di rappallo e praticamente sono due città attaccate quindi mi sentivo proprio in dovere di farla questo video ma andiamo più nel dettaglio chiavari rapina ed estorsioni sgomitata baby gang operazione del commissario di polizia che con denuncia arresti mette fine alla banda almanese age b da tempo terrore degli adolescenti e voglio aggiungere una cosa dovete sapere che questa gang ha tormentato anche me forse dovete sapere che molto tempo fa questa un enorme massa di persone da me sconosciute mi hanno accerchiato e preso in giro per il mio aspetto non hanno fatto nulla non mi hanno picchiato né maltrattato perché comunque figa c'è un po di rispetto sono rappallo due ci mancherebbe altro che uno mi aggredisca però mi hanno comunque un po istigato ma erano ragazzi gentili alla fine quindi io non penso proprio che siano loro ma da queste immagini censurate in realtà io riconosco qualche volto familiare specialmente il tizio con la felpa bianca penso di riconoscerlo ma non ne sono sicuro era solamente un piccolo appunto che ci tenevo a fare ad ogni modo sgomitata dai poliziotti del commissario di chiavari una baby gang di delinquenti albanesi che terrorizzava gli adolescenti del tigulio e del golfo paradiso con botte rapina ed estorsioni indagati una ventina di ragazzi violenti tutti albanesi ci tiene a sottolineare il fatto che siano tutti albanesi penso che qua ci sia un po di razzismo perché comunque hai la certezza cioè vabbè ma andiamo avanti fra alcuni minorenni tre per la gravità dei fatti che gli vengono addebitati sono stati arrestati con tanto di ordine di custodia cautelare messo dai giudici del tribunale dei minori e sono finiti nel carcere minorile ferrante a porti di torino porca miseria ma sentiamo che cosa hanno fatto di tanto grave questa gang questa scusate questa baby gang albanese l'inchiesta dei poliziotti a cui hanno preso da parte anche gli agenti della polfer di chiavari dove è stata fatta la rapina fu tirare fa tirare un un sospiro di sollievo dai genitori dei ragazzi di chiavari lavagna e sesti levanti e di tutti il comprensorio del tigulio e anche nel golfo paradiso dei quei dintorni che da tempo denunciano le angherie e le violenze subite da figli da parte dei bulli albanesi ah e qua ci tengo a fare un piccolo appunto se ci fosse qualche ragazzo è stato bullizzato da questa gang albanese e sta guardando per caso questo video io lo invito a contattarmi nel mio profilo instagram e se vuole posso intervistarlo per rilasciare dichiarazioni su questo argomento se vuole moltissimi furti d'estate sulle spiagge una loro specialità sì però nel senso non è che sono gli unici che fanno i furti non è che una loro specialità molta gente ruba in spiaggia anche italiani lo dico qui chiaramente a me sto questo razzismo non mi piace questo articolo è molto razzista scusate ma c'è da dirlo nel mirino l'ultimo cellulare la felpo le scarpe più fighe le indagini svolte dai poliziotti del commissario hanno accertato che la gang si faceva chiamare hb perché si ispiravano ad alcune ammigerate bande di mafiosi albanesi che riscono il traffico di cocaina a londra piccoli criminali giovanissimi bulli rapinatori quelli indagati a chiavari forse spinti a stare insieme a fare branco in nome dell'entità del proprio popolo cioè ma che cazzo vuol dire scusate questo è un palese razzismo non è che tutti gli albanesi sono ladri questo qui l'identità del proprio popolo ma veramente assurdo articoli come questi cioè scusate come se noi italiani ci mettiamo a rapinare una un negozio che vende spaghetti e l'articolo ci dice per difendere l'identità del loro popolo ma stiamo scherzando no seriamente io lo sto dicendo con serietà questo articolo sarebbe da rivedere dalla patria dei genitori visto che buona parte di questi baby boss sono nati in italia in albalia non hanno mai messo piede e allora che cazzo dici difendere il loro popolo ma scusami c'è ma è assurdo ma è assurdo ragazzi assurdo io più che un commento sulle gesta di queste persone io farei un commento sulle gesta di questo articolo che è veramente di un razzismo e di uno sfottimento assurdo mamma mia assurdo ma ci vienono date più informazioni su un altro articolo ovviamente io lascio tutte queste informazioni in descrizione delle fonti da cui ho preso queste notizie ma andiamo avanti l'articolo della stampa ci dà maggiori informazioni ieri mattina il commissario ha eseguito 16 persuasioni domiciliari e associato presso un carcere minorine piemontese tre ragazzi appartenenti a una banda denominata egb che significa elbanastralosi italiano inferno albanese ci tengo a fare un piccolo appunto io ho fatto una foto in cui ho fatto il segno di questa gang che voi dovete sapere che comunque questa gang ha un simbolo particolare come il saluto fascista aveva mussolini anche queste persone questi ragazzi hanno un saluto che io in parecchi in alcune foto ho fatto tranquillamente ho fatto la complessa indagine iniziata a seguito di un'aggressione ad anno i due minori che hanno fatto emergere l'esistenza della zona del tiguglio di un gruppo di giovani che per affermare la propria supremazia sugli altri coetanei è reso responsabile di una lunga serie di reati ad anno dei coetanei questa è una cosa stupida che che cazzo che senso ha che se tu rubi rubi un oggetto sei superiore non sei superiore sei un coglione posso capire rapinare una gioielleria ok un gesto folle ma rapinare un poveretto per strada che non ha fatto niente sei proprio una testa di cazzo fattelo dire cioè se rapini un tizio a caso sei proprio una testa di cazzo devi rapinare una gioielleria una banca facci droga e fai tutto questo non sono gesti giustificabili ma cioè non sei un commerciante illegale ma non fai danno a dei poveretti di questa gesta è da eliminare ad ogni modo ho messo alcuni componenti del gruppo tre quali rapine furti estorsioni aggressioni lesioni percorso e molestie nonché altri che pur non costituendo specifiche fatti specie di reato sono riconducibili al fenomeno del bullismo esatto ovvero il fenomeno dei coglioni perché non io non accetto io non accetto che dei poveretti ne risentano un criminale che si rispetti può rapinare i ricchi può rapinare queste persone ma non i coetanei questa qui è una grande cazzata che fanno oddio se tu rapini un ricco così ti prendi i suoi soldi e ben venga ma un poveretto tuo coetaneo non avrebbe senso perché comunque noi comunque questo è avvenuto nelle zone di chiavari che schifo un capello questo è avvenuto nelle zone di chiavari non è avvenuto comunque in zone ricche chi ruba i poveri non va bene non è avvenuto in una zona ricca come potrebbe essere il portofino milano attenzione milano che è una città ricchissima la new york italiana di questa è una grande cazzata perché a rubare i poveri è una vergogna non lo farei mai non lo farei mai e non lo dovrete fare non dovete farlo anche voi gli episodi ecco ecco questa fa ridere pertanto anche attraverso i social media utilizzati per non da te minacciare le vittime vabbè questo è evidente minacciare le vittime ma io dico un po di cervello un po di cervello figa un po di cervello scusate già minacciare uno lì secondo te questo non chiama poi la polizia ma siete proprio degli imbecilli fatevelo dire siete stupidi perché fate queste azioni ma imbecilli perché le fate male ok bisogna farle bene bisogna elaborarle bisogna stare nell'ombra non si può andare allo scoperto così minacciando sono gesta nel senso sono gesti orribili da fare ma se uno proprio è fuori di melone questi sono questi c'è proprio stupidità ok ci vuole intelligenza per fare queste cose non minacciare a caso ma andiamo avanti durante le perseguisizioni sono state rinvenute due pistole giocattolo che stupidità non ho parole due pistole giocattolo ma cosa vuoi fare te fare le cui mai sono state postate sui vari profili social dei ragazzi in chi sei un figo una pistola giocattolo quanti anni hanno queste persone secondo me hanno 12 anni acquisiti numerosi video di risse aggressioni l'attività investigativa non si è ancora conclusa al momento conta iscritti nel registro indagati 18 soggetti 13 dei quali di minore età e di questi responsabili dei fatti più gravi sono stati associati verso un calcio ai minori e piemontese quindi immagino che questi tre siano degli delle persone che hanno meno di 18 anni tra gli episodi più efferrati si menziona la rapina commessa su un treno durante la quale un minorenne è stato servalgemente picchiato da più soggetti mentre un quinto filmare azione criminosa ma ne siamo nel 2020 sia nel sia nel 2020 ancora la gente fa ste cazzate il mondo il mondo andrà puttane ma scusa siamo nel 2020 siamo nel 2020 siamo nel 2020 non ci dovrebbero esistere ste cose sono finite dal 2000 dal 2002 2014 non si facevano basta sto cyberbullismo così ma che senso c'ha non potete fumarvi le canne come tutti gli altri no dovete fare i fighi e picchiare boh picchiatevi fra di voi comunque al termine di aggressione la giovane vittima è stato sottratto il telefono cellulare e ferata anche la rapina perpetrata in spiaggia da ogni due giovani adolescenti che sono stati insultati aggrediti senza alcun motivo con calcio e pugni poi durati una catenina d'oro il senso ma non potevate farvi il bagno al mare come tutti no dovevate prendere a calci uno qualunque per rubargli una catenina d'oro cringe io dico che questo è cringe quello che avete fatto ma che cavolo vado avanti a tutti cioè ma siete cringe figa numerosi anche gli atti di bullismo in merito ai quali si citano le percosse inflitte ad un minore che è stato fatto inginocchiare deriso umiliato per aver preso le parti di una giovane coetanea stava subendo da parte del branco delle pesanti molestie scusa 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 le donne non si stuprano a parte il fatto che comunque ok è giusto prendere le difese per carità è giusto hai fatto l'eroe e tutto il resto però attenzione se devi fare l'eroe non puoi buttarti e pensare di spaventarli se loro sono un branco dovevi farti furbo chiedere aiuto a qualcuno in giro perché poi la gente prende in giro se tu dici chiamo la polizia una presa per il culo che tutti ridono ma fidati che se te la chiami quelli lì scappano come cani cioè scappano corrono via fuggono se tu chiami la polizia questi questi scappano cosa vuoi rimangono lì ai carabinieri a spiegare tutto basta dire chiamo la polizia beh è vero potevano aggredirti e rubarti il telefono la chiamavi di nascosto senza intervenire lì sì che facevi l'eroe il codardo vero è comunque è bigliaccheria un pochino ma anche la cosa giusta da fare secondo me in quella situazione ma andiamo avanti altro atto vessatorio è stato commesso a danno di un adolescente al quale è stato aperto il getto di un estintore sul volto procurando lesioni fisiche una pesante umiliazione dopo che la sua fotografia scattata negli attimi successivi all'aggressione è stata pubblicata i social network con frasi denigratorie non ho capito se questo adesso è stato fatto a un ragazzo di colore un ragazzo bianco perché 15 atti denigratori penso che si rischia al razzismo l'ultimplici anche furti di oggetti a danno di coetanei quali zaini abbigliamenti vario minchia ancora qualcos'altro nel corso delle delicate fasi investigative è emerso che il clima che si era creato dagli adolescenti del levante ligure particolare dopo il periodo di lockdown era pervaso da una tangibile paura percepita anche nei soggetti non coinvolti direttamente episodi delittuosi ha indotto molti adolescenti di questa delegazione a cambiare stile e abitudini di vita questo è gravissimo questa è una cosa veramente triste cioè delle persone ci saranno tipo rinchiuse in casa paura di questi ragazzi che andavano a un giro a fare i bulletti questo ragazzi potrebbe davvero coincidere con la storia che vi ho detto quei ragazzi potevano essere le persone di questa gang ovviamente io sono rapallo 2 quindi non mi hanno toccato ovviamente sono rapallo 2 sono youtuber posso fare un video mi danno contenuti no sto scherzando e no non si scherza su queste cose secondo me appunto erano loro comunque e che dire tristissima sta cosa questi credono che il mondo funzioni come i branco di leoni noi siamo esseri umani noi abbiamo la ragione noi siamo degli esseri razionali siamo delle scimmie siamo un branco di lupi dobbiamo convivere tra di noi pacificamente non fare ste cazzate se proprio vi annoiate andate a fare box andate a fare karate fate box tra di voi ma perché dovete coinvolgere della gente che non c'entra un cazzo perché cazzo lo fate ma che problemi avete ma che problemi avete se state guardando questo video ma che problemi avete i vostri genitori non mi vogliono bene ma sti cazzi ma sti cazzi chi se ne frega non dovete fare ste cose picchiate il muro spaccate una sedia stemmiate è data caccia ci sono tanti modi per sfogare lo stress modo in modo non dannoso agli altri l'intera attività di indagine non ancora conclusa vista la sua complessicità stata portata avanti anche con la partecipazione del locale squadra mobile comportamento polizia ma questo non ci interessa fine l'ultimo articolo baby gang farà zia di pc tablet tv in due scuole sette arresti qui c'è pure un contributo video hanno approfittato dell'oscurità della notte per intrufolarsi all'interno dei licei cassini e colombo di genova portando via tutto ciò che di valore si sono trovati davanti una vera e propria razzia tecnologica 5 televisori 24 tablet e 23 computer più altro materiale scolastico un bottino ricco quantificato in 20.000 euro autori del maxi furto una baby gang composta da sette ragazzi poco più che maggiorenni ad accorgersi di tutto è stata una collaboratrice scolastica che una volta entrata a scuola ha visto le porte delle aule aperte a quel punto ha chiamato la polizia gli agenti dopo una rapida ispezione hanno trovato una porta finestra forzata e da qui l'accesso a una vecchia struttura d'accoglienza in disuso posta sotto pignoramento e munita di sigili che erano stati strappati all'interno di questo locale c'erano i sette componenti della baby gang tutti addormentati nelle camere in bella mostra i televisori appena rubati imballati nelle loro scatole i tablet posti sotto carica qui erano state staccate le etichette riportanti il nome della scuola i computer i numerosi arnesi usati per lo scasso i ragazzi tutti di origine albanese per la maggior parte incensurati e regolari sono stati subito processati e condannati all'obbligo di firma io mi chiedo scusa ma perché sono addormentati lì dentro avevano tutto e si sono addormentati così col telefono e tutto ho una teoria perché comunque queste azioni sono stupidi e non sanno rubare fanno le cose proprio a caso o è una tattica è tipo un diversivo secondo me è comunque assurdo che della gente si fa beccare così facilmente perché io penso che la gente le pensi benissimo le cose che sto dicendo di come fare le strategie io ovviamente non sto incitando ma sto dicendo sto argomentando secondo me queste qua tattiche sono tutte dei diversivi che loro fanno per tenere all'oscuro i veri crimini ma è palese secondo me ci può arrivare chiunque queste cose qua che fanno loro sono tutte delle piccolezze per distrarre la polizia le forze dell'ordine dal vero artefice o dei veri artefici di crimini altrettanto più gravi di questi che ovviamente non si sa quali siano potrebbe essere lo spaccio potrebbe essere altre rapine traffico illegale non si sa ma fidatevi che secondo me è così stanno usando delle tattiche per creare zigzaghi a casinie far concentrare tutte le forze dell'ordine su quei ragazzi su quei ragazzi perché alla fine questi crimini bullismo queste cose qui sono cose gravi ma alla fine sono solamente piccolezze in confronto secondo me alla vero alla vera organizzazione che sfrutta queste baby gang fidatevi di me queste persone sono fatte appositamente beccare per nascondere il vero reato assurdo io comunque vi ringrazio a tutti per aver visto questo appuntamento di cronaca di rapallo 2 official channel thank you very much thank you very much for see this video e noi ci vediamo ovviamente in tanti nuovi video arrivederci ciao ciao